Tre luoghi in Emilia Romagna dove sembra essersi fermato il tempo. Casca Pini, cui la vegetazione si fonde con le mura diroccate, creando un'atmosfera misteriosa. La chiesa di Rigosa, le sue pareti rivelano ancora le tracce del passato, ma ora vi regna solo silenzio. Infine il borgo di Vosina, quasi ormai impossibile da raggiungere, ci sono solo case in rovina e strade vuote.